Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Vibram Five Fingers modello V-Trek una calzatura decisamente particolare di cui adesso vi dico tutto quello che c'è da sapere all'interno della recensione completa prima di iniziare a parlarvi di queste Vibram Five Fingers ci tengo a fare un disclaimer iniziale perché queste sono delle calzature decisamente particolari anch'io ho avuto dei problemi quando le ho indossate, adesso ve lo racconterò ma prima di comprarle o appena le avrete comprate affidatevi a qualche medico che vi aiuti perché con una calzatura del genere l'infortunio anche sul lungo periodo è veramente dietro l'angolo inizio a parlarvi nel peso, nel mio numero 47 questa calzatura pesa 180 grammi che sinceramente pensavo pesasse di meno visto che non c'è suola, non c'è intersuola è una struttura decisamente particolare però vabbè alla fine non si sente quando la calziamo iniziamo come al solito a parlare della suola come potete vedere troviamo una suola, vabbè, naturalmente proprietaria Vibram ed è la Megagrip in questo caso Megagrip è decisamente molto molto aggressivo e anche super prestazionale pensate addirittura che Vibram quando me la fornite mi ha sfidato ad andare ad utilizzarle sugli scogli bagnati io non ho avuto il coraggio, dico la verità però utilizzandole su rocce bagnate, proprio belle bagnate, tengono che una meraviglia è un tipo di Megagrip che davvero mi ha dato tantissime soddisfazioni io avevo decisamente paura perché con una calzatura del genere farsi male, come dicevo, ci vuole un attimo ma pian piano prendendoci fiducia ho notato che anche su rocce decisamente bagnate e radici scivolose ha una tenuta veramente pazzesca ma a cosa serve questo Megagrip su questa calzatura? beh innanzitutto per l'aderenza sicuro ma anche per isolarci un pochino dal terreno a isolarci intendo dire che se mettiamo il piede su una roccia appuntita barra affilata non sentiremo dolore nel senso sentiremo che stiamo passando su una roccia ma questa non andrà a tagliarci la pianta del piede allo stesso modo vi assicuro esempio ho messo dei piedi su dei ricci in quest'autunno e anche lì si sente che stiamo passando su qualcosa di particolare una cosa un po' strana però gli aghi non entrano all'interno del piede quindi comunque ci dà una protezione per quanto riguarda proprio la possibilità di tagliarci avere sfergamenti eccetera che comunque anche su questo tipo di calzatura è necessario detto ciò di solito parliamo dell'intersuola ma qua l'intersuola non ce n'è non ce n'è perché a questo punto poi parliamo anche dell'idea di questa scarpa l'idea di questa scalzatura è quella che se ha il nostro piede a lavorare cioè infatti il motto di Vibram per queste calze è you are the technology noi siamo la tecnologia il nostro piede con tutte le sue articolazioni con tutti i suoi muscoli e le ossa è lui che va a fare da ammortizzazione per il nostro corpo quindi queste qua praticamente ci servono solamente ma proprio solamente per proteggerci dal terreno e avere un minimo di grip su quello dove stiamo camminando ma allora perché mi sento abbastanza di consigliarvi queste V-Track? per un motivo molto particolare quando noi utilizziamo degli scarponi soprattutto quando sono quelli rigidi praticamente è lo scarpone che cammina cioè il nostro piede non fa assolutamente niente è dentro, fermo di muscoli ne utilizza veramente pochissimi e quindi a lungo andare il piede tenderà a disabituarsi a camminare tanto che poi magari tornando a utilizzare delle calzature diciamo più normali senza una sola rigida rischeremo anche di farci male o comunque di sentirci più affaticati rispetto a quando utilizzeremo degli scarponi rigidi io ho deciso di utilizzare queste Five Fingers nel momento in cui andavo a mettere proprio degli scarponi rigidi proprio per riabituare il piede a fare tutta la sua rullata e a riabituare tutti i muscoli a lavorare vi assicuro che alla lunga si sente la differenza e quando dico alla lunga nel senso che io ce l'ho da sei mesi ed è da poche settimane che ho iniziato a sentire la differenza quindi ci vuole davvero tanto tanto tempo però noteremo in questo caso quando andremo a utilizzare delle scarpe non rigide perché con quelle rigide non noteremo nulla che il piede è decisamente più forte quindi riusciremo a spingere di più a camminare più velocemente e soprattutto avremo una stanchezza minore cioè il piede a fine escursione sarà decisamente meno stanco però sono sicuro che vi starete chiedendo ma come si calzano queste Five Fingers? beh, la calzata è decisamente molto particolare innanzitutto vi racconto che quando l'ho messa su la prima volta sono stato mezz'ora ad arrabbiarmi perché non riuscivo a infilare il giusto dito nel giusto punto perché naturalmente queste scarpe sono pensate che hanno le dita che si infilano in ogni protuberanza quindi ogni dito ha il suo pezzettino dove andare ad appoggiarsi e all'inizio è stato veramente difficile riuscire a metterle su proprio con le dita nei posti giusti però alla lunga poi ci si abitua in generale è come avere un calzino cioè se voi avete un calzino a casa un pochino spesso ecco, la sensazione è proprio quella l'allacciatura è fatta decisamente bene perché comunque ha degli occhiali belli grossi è molto leggera e decisamente molto morbida perché è super a contatto con la pelle perché queste scarpe non si utilizzano col calzino mi raccomando e quindi in generale la calzata veramente quando poi le mettete su sembra avere addosso più un calzino con una suola rispetto che una scarpa normale per quanto riguarda invece la rigidità beh queste scarpe non ne hanno infatti come vi dicevo beh a parte che io posso praticamente arrotolarle e non si rompono e come vi dicevo non hanno nessun tipo di rigidità perché sarà il nostro piede a dover fare tutta la rollata e anche dal punto di vista della rigidità del tallone cioè non ce n'è proprio io lo posso completamente appiattire e anche qua naturalmente queste scarpe sono pensate per chi ha comunque già una certa muscolatura e una certa struttura scheletrica perché se siamo persone dalla storta facile diciamo che forse questo non è il giusto modo per allenare il piede quanto magari fare un passaggio intermedio su una scarpa meno strutturata perciò in generale vi consiglio queste Vibram Five Fingers versione V-Track sì io mi sono trovato bene ci vuole un lungo tempo ad adattamento come vi dicevo i risultati si vedranno dopo tantissimo tempo però sono comunque scarpe decisamente durevoli perché sono mesi che le utilizzo e non hanno praticamente un graffio se non essere sporche ma vabbè e per il resto che dire secondo me è un'ottima scarpa da prendere in considerazione se sono persone che fanno tanta attività all'aria aperta e vogliono allenare bene il proprio piede perché sappiamo che il piede è forse la parte più importante del nostro corpo perché cammina per il resto vengono vendute se non ricordo male a 129 euro sul sito di Vibram magari in giro si trovano qualcosa meno è un prezzo che anch'io ho pensato beh ma con una cifra del genere mi compro una scarpa normale sì ma a mio parere qua dietro c'è molta più tecnologia rispetto a quella di una scarpa normale quindi secondo me il prezzo è giustificato per questo tipo di calzatura dato ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauramente esastivo anche per questo video vi ringrazio che l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao